Siamo al voto disciplina dopo questa partita, da chi cominciamo? Il comportamento della squadra avversaria. Un bel 10, vai. Si sono comportati bene, corretti. Tante volte hanno detto anche di aver toccato palla. Anche noi, niente da dire. Si sono comportati bene il comportamento. Quindi sì, 10. Bene, questo ci fa piacere. Bravi ragazzi, complimenti.